Altra frazione nel meridione d'Italia, anche se questa volta risaliremo la penisola andando da Sassano in provincia di Salerno, a Monte Cassino in quella di Frosinone, per un totale di ben 247 km, contraddistinti da due GPM, il primo quello di Cava dei Tirreni di quarta categoria, mentre il secondo quello dell'arrivo di Monte Cassino di seconda. Dunque sarà una tappa di media montagna catalogata dall'organizzazione, con due stellette sulle cinque possibili. Per 225 km si rimarrà nella regione della campagna e si attraverseranno città molto importanti, come i capoluoghi di provincia di Salerno e di Caserta. Poi il gran finale sarà nel Lazio e più precisamente nella Ciociaria, un territorio molto affascinante. L'arrivo, come detto, sarà Monte Cassino, la città della famosa Abbazia, fondata nel VI secolo d.C. da San Benedetto, che diede vita all'ordine dei Benedettini, conosciuti da tutta la cristianità, per il loro motto, ora et lavora, ossia prega e lavora. Inoltre Cassino celebrerà quest'anno i 70 anni dalla sua distruzione della primavera del 1944.